Una serata in piazza San Giovanni a mangiare macco e manichifauce, ma non ricorda un po' con la tradizione contadina, la pastellaria? Sì, certo, io mi ricordo quando ero bambino che desideravo più di qualsiasi altra cosa mangiare i manichifauce, ma non mangiarle dalla nonna, perché la nonna che stava in campagna nella conciata pendente era una capitana di una villa, però quando eravamo invitati dai massari insieme ai miei tutori a mangiare una maida e i manichifauce era tutta un'altra cosa. E la cosa più bella era la vigilia di San Giovanni quando queste maniche di fauce si mangiavano con il macco delle fave per sguittare i peccati. E siccome peccatori siamo tutti e in questo periodo in modo particolare, l'anno scorso abbiamo incominciato questa tradizione e tutti hanno chiesto di sguittare ancora una volta i propri peccati mangiando le fave, che però non sono fracusani, vengono da morti. Vengono da morti. Vengono da morti. Vengono da morti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.